Musica Lo chiamavano Piano Abruzzo, un vero e proprio sistema per spartirsi i soldi della ricostruzione post terremoto. Un piano portato alla luce dall'operazione Earthquake condotta dalla Guardia Forestale e coordinata dalla Procura di Pescara, per la quale sono finite agli arresti domiciliari sette persone, tra pubblici ufficiali, tecnici, progettisti ed imprenditori umbri e abruzzesi. Ancora una volta quindi nel mirino degli investigatori sono finiti gli appalti per la ricostruzione post terremoto 2009. Circa 29 milioni di euro spartiti in maniera scientifica attraverso mazzette con percentuali ben precise. L'indagine, condotta dai PM pescaresi, ha preso il via dal racconto di un imprenditore di Leumbro, aggiudicatario di tre gare d'appalto nel comune di Bussi e Bugnara, per un totale di 8 milioni di euro. Soldi che però ha riferito di aver dovuto spartire con il direttore dei lavori, che avrebbe preteso il 12%, circa 960 mila euro, da girare agli altri tecnici coinvolti nei progetti di ricostruzione di tre fabbricati, tra i quali quello della scuola di Bugnara. Il sistema si basava sull'acquisizione di una sorta di monopolio nell'accaparramento degli incarichi di progettazione degli aggregati edilizi del cratere, tramite la corruzione di tecnici dei consorsi privati per la ricostruzione, costringendo le ditte a pagare alte percentuali per poter accedere al mercato degli appalti finanziati dallo Stato. Poi il buon esito dell'istruttoria per la richiesta dei contributi veniva garantito dal responsabile dell'ufficio tecnico della ricostruzione numero 5 del cratere Aquilano, che come contropartita avrebbe chiesto il 5% del valore degli appalti, da 29 milioni di euro, oltre a lavori edili gratuiti in una sua abitazione, un'autovettura, e l'assunzione di un familiare presso una ditta affidataria dei lavori. Le dichiarazioni di un altro imprenditore Umbro, che ha già presentato richiesta di patteggiamento della pena, ha consentito di ricostruire il tentativo del responsabile dell'ufficio tecnico per la ricostruzione di turbare la gara pubblica per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ricostruzione della scuola elementare e materna Clemente di Bugnara, ottenendo come contropartita 10 mila euro in contanti e la promessa di ulteriori 130 mila euro da erogarsi ad ogni pagamento dei sal, stato di avanzamento dei lavori. Gli uomini della forestale dell'Aquila hanno sequestrato anche tutto il carteggio relativo ai lavori di ricostruzione privata in cui compaiono le ditte interessate dall'indagine presso i due uffici per la ricostruzione dell'Aquila. Il Comune dell'Aquila ha approvato di recente la concessione di contributi 2016 alle associazioni di istituzioni culturali. In base al regolamento sono stati concessi benefici economici ad associazioni senza fini di lucro per la promozione del territorio in termini civici, culturali e di sviluppo. Le somme istanziate vengono divise per categorie, quote associative, contributi ordinari pluriennali ed annuali e contributi straordinari. Il Teatro Stabile d'Abruzzo ha ricevuto un importo pari a 103 mila euro circa, la Fondazione Università una somma pari a 10 mila euro circa, l'Associazione CIDAC una somma pari a 3.100 euro. Al contributo destinato al Teatro Stabile d'Abruzzo va inoltre aggiunto l'importo di 30 mila euro in seguito all'assorbimento del Teatro di Innovazione Nuovo con le sue attovità. I contributi ordinari pluriennali riguardano le istituzioni che godono del riconoscimento ministeriale, mentre i contributi ordinari pluriennali si riferiscono a enti, istituzioni e associazioni con sede nel Comune dell'Aquila, che svolgano con regolarità un'attività annuale culturalmente rilevante per il territorio da almeno 5 anni. Nella prima sezione troviamo l'Istituto Cinematografico La Lanterna Magica con 40 mila euro circa, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese con 53 mila euro, l'Associazione Teatro Zeta con 3 mila euro, l'Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti Barattelli con 27 mila euro circa, i Solisti Aquilani con 16 mila euro circa, l'Associazione Culturale Motion Gruppo Fenix con 3 mila euro, l'Associazione L'Idea di Clev con 3 mila euro, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia con 25 mila euro. Nel capitolato dei contributi ordinari annuali troviamo invece il Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica con 9 mila e 180 euro, l'Associazione Gli Archi del Cherubino con 9 mila euro circa, l'Associazione Quarto di Santa Giusta con 7 mila euro circa, l'Associazione Corale 99 con 7 mila euro circa, l'Associazione Dentansalmo con 7 mila euro circa. Così le ripartizioni degli impegni di spesa che gravano sui rispettivi capitoli di bilancio, le quote associative per un costo complessivo pari a 116 mila euro circa, i contributi ordinari pluriannali per un costo complessivo pari a 170 mila euro circa e i contributi ordinari annuali per il costo complessivo pari a 40 mila euro. Parte dalla frazione più popolosa del capoluogo, quella di Paganica, il ciclo di incontri pubblici promossi per far conoscere e diffondere tra la popolazione il piano di protezione civile comunale. Venerdì 14 ottobre alle ore 18 presso il centro civico di Paganica verrà illustrato lo strumento messo a punto nel 2015 per far fronte alle emergenze in caso di calamità. Dicevo in conferenza saremo d'apripista a questa iniziativa che riteniamo fondamentale per il nostro territorio. La sicurezza Tugur, quindi a 360 gradi, ci interessa non solo per quanto riguarda la sicurezza stradale che dicevo è prioritaria, ma anche la sicurezza per tutto ciò che riguarda l'esigenza di avere l'opportunità di proteggere la popolazione, proteggere la popolazione da un territorio che è, come conosciamo, pieno di rischi. I rischi più importanti per il mio territorio in particolare sono il rischio idraulico, il rischio idrogeologico e il rischio sismico che ormai è noto ai più. Fine settimana poi, dedicato alla sicurezza e alle buone pratiche da attuare di fronte alle emergenze con la manifestazione Io non rischio promossa dal Dipartimento di Protezione Civile. In cinque angoli della città, da est a ovest, volontari ed esperti forniranno suggerimenti e consigli utili da seguire nei momenti di emergenza per non farsi prendere dal panico e reagire di fronte ad eventi tanto inattesi quanto potenzialmente catastrofici. Allora, in questi due giorni, il 15 e il 16 ottobre, saremo presenti nel nostro comune in cinque piazze distinte con la campagna Io non rischio. Questa campagna ormai è arrivata alla sesta edizione e vede la collaborazione del Dipartimento Nazionale insieme ad Ambas, all'Ingv, Cines e Reluis. Quindi, oltre ad un'informazione più che altro pratica che possiamo dare noi come volontari con dei consigli, con delle buone pratiche, ci sarà anche del materiale informativo più tecnico. avremo anche la presenza di mappe interattive, di materiale di informazione che viene appunto prodotto dagli enti istituzionali. Avremo quindi in questi due giorni l'opportunità di diffondere questo materiale alla popolazione. Le piazze saranno strutturate tutte quante con materiale esplicativo e la popolazione avrà il coinvolgimento diretto, essendo seguita da dei comunicatori formati per l'appunto su tutto quanto la campagna.